Nano, questo è il video Nano, guardate il Diego, dopo un giorno di vacanza, almeno siamo arrivati, saluta il video, saluta il Diego, buongiorno Diego! Eh, non penso che ti senta tanto eh, non penso che ti senti, non verrà molto bene l'audio, si però si vuole. Ah il video, fermo! Ah è un video? Siamo finiti allora, riprendi lì, riprendi lì che fa? Sì, guardate! Adesso c'è stato mangiato 6 uova stamattina. 6 uova, solo! Ah il Soccio si, è vero! La piavola del soto! Guardami proprio il troppo! C'è il quadrato e adesso... Aspetta, devo un attimo andare... Lei le mani ci fa adesso del quartino! Per questo, ciao!